C'è una lingua diretta, concreta, che faccia bene ai fatti, se molti essi così diretti droppando le letture. Per farvi capire facciamo un esempio. Tu fai tutti i giorni calditi nella casa. Più hai detto più volte di mettere a puoi, ma non vuoi sentire ragione. E ora ti fai capire con il comando. Per l'italiano ti dicevi Figliolo caro, è tutto il giorno che metti a suo quadro la casa. Ti dispiacerebbe smetterla per favore? Altrimenti mi vedrò costretta a prendere provvedimenti. Stesse robe, ma par furlano. Ascolta Frut, io ti hai fatto e io ti disfi. Di, non è migliore con i dettoli. Di, fantatti, la pensi tu di là. Prendi un po', fracca il po' di là e iscriviti al canale. Ha tu capito? Boom! Ho! Ho!